Siamo alla stazione centrale di Messina, i treni in partenza sono per Palermo, Sant'Agata, Torino, Calati, Palermo, Sant'Agata, Palermo, Canessia, Calati, Milano. Oggi il 7 ottobre, a sei giorni dal disastro, non ci sono treni che collegano Messina con la Sicilia orientale, cioè Catania, Siracusa e la linea ancora interrotta. Abbiamo solo treni che fanno la linea per Palermo. La stazione centrale di Messina è una delle più grandi d'Italia, la stazione marittima e la stazione ferroviaria. Questa è la stazione ferroviaria. Ci sono treni solo, per Palermo alle 16.25 e un treno per Galati alle 16.40. Palermo, treni in partenza a 15.56, 16.30, Torino a 16.50, Galati a 16.55 e Palermo a 17.15. La stazione di Messina smista i treni che vengono dal continente in due treni, li divide in due. Un pezzo va a Palermo, l'altro pezzo va nella Sicilia orientale fino a Catania, Siracusa. Questa stazione è stata costruita negli anni 30, è una delle più grandi e più spettacolari stazioni d'Europa, perché è tutto un edificio collegato con la stazione marittima, ma là in fondo si vedono le traghette, che traghettavano i treni, che le ferrovie stanno diminuendo drasticamente. In questo momento, a sei giorni dal disastro, la stazione di Messina è ancora bloccata, non possono partire treni per tutta la riviera orientale, perché il binario unico che passa da Scaletta a Giampilieri è praticamente ancora coperto di terra. Un paese che si dichiara essere la quinta potenza economica del pianeta, dopo sei giorni ancora non è riuscito a liberare poche migliaia di metri di binario coperti dal fango. Nonostante ci siano coinvolte esercito, marina, capitaneria di porto, tutti i mezzi possibili e immaginabili che ci sono a disposizione in questo momento, anche perché il tempo è migliorato nettamente, non piove più da ormai 4-5 giorni, non piove più, quindi non si vede come un paese così e quindi ormai climaticamente ristabilito non possa affrontare una situazione di emergenza e risolverla in tempi umanamente accettabili.